siamo sempre qui da Alesselli, Ale sta tritando i peperoni ma non ci interessa in realtà sapere cosa ci prepara, io lo chiederemo un'altra volta, invece noi vogliamo parlare di funghi perché ho uno scoop, siamo a marzo, non è periodo di funghi ma da Alesselli ci sono i mazeurus chiamati dormienti, nascano quando si scioglie la neve, le abettine sotto terra è un fungo di colore bianco, quindi stiamo parlando intanto di funghi della montagna pistoiese è bianco sul grigio bionco, la mella di sotto, quando fanno, vanno puliti tantissimo perché nascono sotto terra quindi sciocca di bene, quindi un fungo quasi tartufato, volendo e per me sono più buoni dei porcini, il tagliolino con il fungo dormiente e la sumoze come la frittata con il fungo dormiente, marzeurus, se no poi i micologi mi picchiano ed è veramente eccezionale, giovedì sarei il primo ad assaggiarli perfetto, giovedì sarete i primi se non venite a provarli qui da Alesselli a vedere il video perché sicuramente io intanto ho fissato un tavolo ciao e ci vediamo giovedì da Alesselli ciao